bentornati amici del complotto oggi inizierò questa live ma poi non dite che non vi avevo avvisato questa live è a tema complotto questa live è a tema olimpiadi queste olimpiadi del complotto ora si è fatto un grande parlare ultimamente di queste olimpiadi che hanno aperto hanno iniziato le olimpiadi con già la prima polemica ormai le olimpiadi sono diventate la versione di sanremo dello sport no quindi quindi commentiamo insieme questo questa epifania della merda che sono state queste olimpiadi 2024 oggi è il 6 il 6 agosto e 2024 è l'anagramma di complotto quindi inizieremo subito senza perdere tempo mi sono preso degli appunti ho aperto delle pagine e quindi iniziamo la live mettete like se ancora non l'avete fatto oggi non guarderò tanto la chat perché ho tante cose da dire e rischierei di perdere il filo quel filo che vi tiene attaccate come marionette e controllo alle vostre vite voi convinti di avere del libero arbitrio ma così non è ora le olimpiadi si aprono con questa scena quest'anno si aprono con questa scena che è censurata ma come vedete è la grottesca parodia drag queen dell'ultima cena e al posto del pane dell'agnello e delle erbe amare che l'ultima cena era il giorno di pasqua a pasqua ebraica c'è un'orrenda caricatura di dioniso con la pelle bluastra questo per indicare la sua natura divina stellare il cielo è blu come gli dèi indiani che sono blu anche qui hanno rappresentato un dioniso blu e i dodici apostoli diventano le sue baccanali e la figura di gesù cristo viene trasformata in una drag queen obesa e questo disco solare con le sette stelle intorno alla testa fa indicare che è lei la divinità ma la divinità gesù che viene orrendamente sfigurato in questa grottesca figura non mangia più il pane bensì mangia dioniso che è una rappresentazione per il cristianesimo di tutti gli dèi pagani e satanici quindi la lussuria e bacco tabacco e venere era dioniso no insomma quindi questa immagine prettamente satanica non è neanche più un'immagine a parodia ha veramente una simbolismo e una simbologia chiara ed evidente per chi sa leggere queste cose ora perché io mi soffermo su questa su questa immagine perché è un po di tempo che io vedo e vedo da un po di tempo e noi tutti appassionati della teoria del complotto vediamo diciamo dal 1980 più o meno vediamo questa spinta nel mainstream a una iconografia satanica satanico massonica perché questo perché questo ora le persone che non credono a niente sono più facili da controllare diceva la storia infinita il buon mark ma la lama a doppio taglio dell'ultracapitalismo e dell'ateismo che si è spinto finora è che non credendo a niente le persone non sono fedeli a niente non debbono fedeltà a nessuno e quindi non hanno obbedienza a nessuno se non ha il loro tornaconto i loro istinti e diciamo al loro portafoglio questo è un male questo è un male per chi vorrebbe controllare le persone e allora ricordiamoci che per controllare le persone e avere una presa psicologica sulle persone e con persone non intendo i poveri stronzi come me e voi ma le persone influenti le persone che hanno un'influenza sulla grande massa quindi le star dello sport e le star della musica e del cinema piuttosto che i banchieri o i politici ora se queste persone non credono in nulla è difficile controllarle se poi non puoi dargli del potere mentre sarebbe molto più facile controllarle se li convinci in qualcosa di ultraterreno a cui dedicare le loro energie ok ma siccome il cristianesimo ha fallito perché si è spinto fino all'altro ieri l'ateismo e il consumismo e ricordiamo che il cristianesimo ha vinto contro il dio mitra ok quando nacque il cristianesimo c'erano due grandi religioni il mitraismo e il cristianesimo tutte e due religioni orientali tra l'altro una veniva dal medio oriente il cristianesimo e l'altra dalla persia mitra ma mentre il culto di mitra garantiva la salvezza solo agli uomini il cristianesimo vinse perché la garantiva anche alle donne ora e quindi per 2000 anni sono riusciti a soggiogare le persone in nome di un certo tipo di religione questa religione ormai è in declino è caduta ok salve salvo qualche caso di persone depresse che si affidano a una religione chiaramente fallace per non affrontare la vita in religione il cristianesimo ha fallito e quindi da almeno 20 anni se non 30 si sta spingendo e adesso vi farò notare come un aperto satanismo ok perché questo non vuol dire che satana esista io questo non lo so ma dico che se c'è un ente di potere centralizzato che ha bisogno di controllare le persone farli credere in qualcosa quindi in una religione che gli promette sesso droga rock and roll fama e soldi e potere sicuramente ha molta più presa che farli credere in gesù bambino anche a livello psicologico se poi aggiungiamo che in queste religioni diciamo questa religione satanica i culti prevedono riti orgiastici pedofili e cannibali tra cui omicidi rituali e più o meno occultismo su questa fila diciamo che a livello psicologico chi aderisce a questi culti è molto 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 facile sia soggiogato ok perché a livello psicologico un rituale del genere entrare in una situazione del genere fa molto presa ricordatevi le bestie di satana riuscivano a fare i loro orrendi crimini perché perché le vittime erano entrate in un circuito di paura terrore e comando ok quindi questa è la grande premessa ora dove nascono queste teorie qualcuno di voi ha mai sentito parlare del bohemian groove ora il bohemian groove andiamo dai nostri amici di novaletio che è un canale youtube di non propaganda ma di ricerca e quindi di divulgazione storico e scientifica più storico che scientifica e facciamoci un un'infarinatura su cos'è il bohemian groove ok capirete perché vi parlo del bohemian groove diciamo che è un bosco segreto dove si riunisce l'elite globale quindi banchieri gente dello spettacolo politici eccetera non si parla di bohemian club non bisogna mai dimenticarsi questi due aspetti la sua nascita in un determinato scenario culturale e non di meno il suo contesto geografico a fine diciannovesimo secolo quando iniziano le attività al bohemian groove questi boschi rientrano ancora nell'antica mitologia dei nativi e della colonizzazione dei primi pionieri ok quindi questo è il video che dovete andare a vedere io non ve lo posso far vedere per motivi di copyright perché questa live verrà caricata poi su youtube ok però andatevi a vedere questo video bohemian groove il bosco segreto dove si riunisce l'elite globale sul canale nova lettio cosa succede nasce come un posto di fricchettoni libertà libertà sessuale contatto con la natura e voglia di scappare dalla ragnatela globale dei media eccetera eccetera e quindi non luogo gli artisti artisti che però erano squattrinati dentro questo bosco si facevano baldoria si beveva si faceva l'amore si dormiva all'aria aperta siccome gli artisti erano squattrinati hanno dovuto far entrare anche i mecenati quello che finanziavano l'arte ossia gente con i soldi ossia tutto quello che rappresentava il contrario del bosco che era fatto per scappare dalla mondanità cittadina quindi hanno iniziato questo bohemian groove è iniziato a diventare il raduno di i potenti all'elite no l'elite che erano appunto banchieri politici e gente dello spettacolo gente dello spettacolo che serve per per fare propaganda agli interessi dei finanziatori di cui sopra io sotto questo video ho scritto io non sdrammatizzerei comunque il fatto che un elit di multimilionari influencer hollywoodiani politici e capi di servizi segreti e queste cose sono tutte confermate e documentate si riuniscano in un club privato a rafforzare i loro legami da cui dipendono le sorti dell'occidente dell'occidente pardon e per rafforzare questi legami usano riti in cui si prevede sesso di varia natura galloni di alcol e riti esoterici inoltre è possibilissima la deriva infiltrazione massonico satanica visto l'atmosfera pseudopagana non che satana esista ma se riesce a convincere anche solo una decina di magneti che in realtà è così può esercitare su di loro una notevole pressione psicologica ok questo è per farvi capire anche il perché ora tu dici perché questo questo argomento perché le le olimpiadi hanno avuto questa piega filo satanica perché all'atleta brasiliano che aveva sulla sua tavola la bandiera del del brasile con l'immagine del cristo di rio che è il monumento nazionale del brasile è stato vietato di portare all'immagine di gesù per non offendere le altre religioni mentre alle drag queen è stato permesso non solo di parodizzare la religione cattolica in una scena rappresenta in una scena rappresentazione che è quella di uno spettacolo sessualizzato e sessualizzante e comunque sessuale per maschi adulti le drag queen sono un prodotto erotico per maschi adulti ve lo ricordo quindi a che giovava fare una rappresentazione dell'ultima cena con anche un simbolo satanico e pagano come bacco satanico e pagano per il cattolicesimo quello quindi offendere il cristianesimo va bene ma poi quando si parla di altre religioni bisogna sempre stare in punta di piedi perché perché per duemila anni è stata la religione che ha dominato e adesso questa religione va sconfitta in virtù di un aperto satanismo perché vediamo tanti cartoni animati presentati anche dalle piattaforme in fasce protette che hanno per pubblico intanto giovanissimi quindi bambini dagli 8 ai 12 anni se non più bassi più 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 giovani ancora che hanno protagonisti demoni ho visto un cartone animato una volta in fascia protetta in un contenitore per cartoni per bambini dove c'era un un demone orribile che sembrava uscito da un ritratto di gogia non so se si chiami così però avete capito quello che disegnava visioni di inferno con gli uccelli con la testa aperta eccetera c'era questo demone che vomitava pipistrelli no ed era il protagonista di un cartone animato per bambini ora se noi abituiamo i bambini a riconoscere in queste immagini in questa iconografia qualcosa di familiare qualcosa che li riporti all'infanzia qualcosa di piacevole come un cartone animato è facile che poi da grande da grandi questi bambini siano attratti inconsciamente da tutti quei personaggi famosi madonna in primis taylor swift eccetera che nei loro show nei loro spettacoli si rifanno un'iconografia satanica ora la teoria del complotto è questa la teoria del complotto di canon ok dicono che i seguaci di canon sostengono che esiste una cabala di pedofili satanici e cannibali che gestiscono un traffico sessuale internazionale e che controllano il governo degli stati uniti quindi quello che aveva detto donald trump no se vi ricordate ok non a caso non a caso ma il gibson avrebbe avrebbe parlato anche di questa cosa anche un noto pugile disse di essere stato sequestrato e brutalizzato diciamo così da questa setta e infatti da allora non combatte più eccetera 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 io non sto dicendo che trump è la soluzione trump è solo l'altra faccia della medaglia ora quindi ragazzi questa è la teoria del complotto ma tu mi dici ma barlo ancora con queste teorie del complotto per tenere nascosta una teoria del genere è impossibile perché perché sono coinvolte centinaia e centinaia di persone qualcuno sistematicamente dopo 5 o 6 giorni parlerà non è più possibile tenere nascosto niente soprattutto con internet esattamente e allora come fai a tenere nascosto o a negare qualcosa che prima di internet volevi tenere nascosto così esattamente così lo ridicolizzi fai nascere i vari adam cadmon fai nascere le varie paginette di complottisti ok fai nascere le pagine di instagram e di facebook non ce lo dicono queste infatti io la seguo perché si chiama lo hanno nascosto ma e aka non ce lo dicono e perché io seguo queste pagine visto che so che sono totalmente fuorvianti e fatte apposta per confondere la gente vi lo faccio vedere perché vi faccio vedere esattamente ve lo ricordate il primo man in black c'è questa scena di man in black che è veramente interessante è in inglese ma ormai l'inglese lo conosciamo tutti ma siccome lo so quasi a memoria ve la traduco io capito? dice ma perché stai prendendo questi giornalacci tipo eva 2000, cronaca vera eccetera dice perché questi sono i migliori investigatori del pianeta perché sul new york times che è un giornale rinomato non ho più saliva ragazzi devi essere fortunato per trovare una notizia vera qui invece le trovo capito? non riesco a credere che tu cerchi notizie sui tabloi della supermarket non le cerco le trovo queste notizie che sembrano fuori dal mondo totalmente inventate un alieno ha rubato la pelle di mio marito ve lo ricordate il man in black no? ma questa è una metafora perché io allora seguo pagine come lo hanno nascosto? io non cerco le notizie su queste pagine io le trovo perché siccome raga non si può più tenere nascosto niente le teorie del complotto ormai girano dagli anni 80 e vi dico una cosa Ryan Garcia era il pugile esatto vi dico una cosa sulle teorie del complotto ok? siccome non le puoi più tenere nascoste puoi solo cercare di screditarle e farle passare tutte per sciocchezze da complottisti da terrepiattisti e come fai? fai nascere appunto i vari Adam Kedman ok? e quindi tu anche le cose vere le affianchi a delle minchiate giganti a delle cose palesemente false in modo che poi passano anche le cose vere per stronzate apocalittiche ok? tipo come faccio io a a nascondere il piano dell'agenda satanica faccio una pagina di complottista dove ti dico guarda l'agenda satanica guarda il vaccino guarda le bombe in piazza Fontana le bombe a la strage di Ustica e ti faccio vedere le cose vere e poi di fianco ti dicono il papa è un clone capito? ti hanno sempre mentito siamo nel Matrix la regina di Inghilterra non è morta e quindi passano poi tutte per minchiate perché dice vabbè se dicono che la regina di Inghilterra non è morta che il papa è un clone sarà una minchiata a tutto no? però io vi faccio notare una cosa non è possibile fare sempre del pic sharing anche sulle notizie perché sai ci sono certe ragazze che dicono io sono femminista io sono indipendente ma la cena la paghi tu no? e lì fai del pic sharing sul femminismo però voi che siete intelligenti e non siete terrapiattisti non siete complottisti perché voi siete intelligenti e dite eh i complottisti si sentono che la loro vita non vale niente sono tutti analfabeti sono tutti stupidi sono dei dei mentecatti e quindi credono a tutto io invece sono intelligente io non sono terrapiattista io non sono complottista e quindi credo al TC4 allora ragazzi non potete fare sempre del cherry picking perché anche quando poi le notizie che venivano catalogate come complottiste poi si scoprono vere come l'allunaggio negli anni 70 quando era come tutte le cose sulla punturina che ci hanno fatto fare come tutte le cose su i politici che ci hanno sempre mentito quando vengono declassati eh dei documenti andate a vedere semplicemente la pagina di di Omega Click quando poi ci sono delle prove che ti confermano che cazzo non erano teorie complottiste avevano ragione quei cazzo di complottisti poi non potete girarvi dall'altra parte e fare finta di niente oppure si potete farlo ma non siete intelligenti quindi adesso io per mettervi un po' di caca ma semplicemente per insinuarvi un po' di dubbi vi faccio vedere una di quelle che secondo me è una pagina nata non per nascondere le teorie del complotto ma per vanificarle per ridicolizzarle siccome non si possono più tenere nascoste perché ormai tutto è sotto gli occhi di tutti e la verità la sanno già tutti è trapelata allora cerchi di ridicolizzarla guardate qua ansia collettiva niente a caso i burattini dell'elite hanno tutto calcolato ti mostrano esattamente quello che vogliono capito? cosa succede? i lord swift denunciano sui social di soffrire di amnesia collettiva post concerto se non fosse per il fatto che l'hanno registrato sui loro cellulari potrebbero essere sicuri al 100% di non ricordare di aver partecipato la scienza gli ha già dato un nome e dice che ciò accade quando il cervello rilascia grandi quantità di norepinefrina un neurotrasmettitore fondamentale per l'elaborazione emotiva simile a quanto accade in situazioni pericolose o eventi estremamente significativi come un esame o un evento pubblico d'altra parte un esame rifiutano il furto di energia la stessa cosa accade con altri artisti come abbiamo già visto ok qua si parla di furto di energia cos'è il furto di energia nell'esoterismo il prete il maestro o comunque delle cerimonie fatte in certo modo possono servire per uno scambio di energia ok questo però è esoterismo quindi sono sono teorie di esoterismo ok quindi non posso dirvi devi crederci non devi crederci chi ha fatto un percorso di conoscenza in quel in quel ramo lì lo sa alcuni concerti secondo la teoria del complotto servono per succare le energie ai partecipanti e allungare la vita o comunque dare energie al al cantante è anche una sorta di ipnosi collettiva ok io adesso vi faccio vedere tutto quello che c'è su questa paginetta e vi faccio capire delle cose che secondo me hanno un fondamento e che devono essere accostate a delle minchiate in modo da passare per minchiate anche queste questa qua è il concerto di Taylor Swift che è un'icona pop ok è il pop da ragazzina bianca quindi è l'icona pop per eccellenza come Madonna ai tempi Madonna che fondamentalmente ha fatto del del satanismo chiaro la sua iconografia da sempre chi conosce Madonna lo sa ok vedi utopia in cui morirono i ragazzini vedete quindi questo questo era una cosa che secondo me è interessante da capire accostata subito dopo a questo non è un uomo è una ragazza la solita minchiata sulle olimpiadi no quindi questa minchiata poi Bad Bunny attenzione cosa dirà cosa succede non capisco cos'è che dovevamo vedere il club delle scarpe rosse ok aha tu dici ma cosa c'entra Ronald e McDonald con le scarpe rosse perché McDonald è una multinazionale e McDonald tra i bambini ok quindi il club delle scarpe rosse vuol dire stai facendo propaganda per un un elite poi abbiamo una roba sul papa la simbologia ok questa può essere anche lampante per chi segue questa roba ok poi ti fanno vedere vedete questi riferimenti cannibali vi ricordate i quelli che ci comandano sono satanici cannibali e pedofili abbiamo Lady Gaga e poi c'è il club dell'occhio nero anche oltre al club delle scarpe rosse il simbolo dell'agenda satanica ora è abbastanza inquietante questa roba no vedete e sono tutte cose per dimostrare all'elite che tu lavori per loro e di fare una propaganda all'iconografia satanica vedete queste cose qua sono talmente assurde che tu dici vabbè sono teorie del complotto sono tutte cazzate hai fatto tu un'esegesi tua ma il segreto è ridicolizzarle vedi ridicolizzarle farle diventare talmente grottesche nella no non lo sto vedendo scusate vedete scusate il segreto è farle diventare talmente grottesche le cose calcare talmente la mano farle talmente lampante no che poi quando tu dici eh ma allora è vero ti dicono vabbè ma sei un complottista e credi a tutto oltre al club delle scarpe rosse c'è anche il club dell'occhio nero poi andremo a vedere no vedete abbastanza grottesco e inquietante tutto questo il fatto è che queste cose non le puoi nascondere perché le fanno proprio sotto gli occhi di tutti e allora poi per ridicolizzarle per renderle ancora grottesche e farle passare come minchiate devono accostarle vedi perché non si va in antartide perché non si va in antartide perché ci sono le basi sotto l'antartide e anche lì secondo me è una cosa interessante e poi invece ti mettono le fake news chiare 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 questa è una fake news questa è chiaramente una fake news poi ti mettono questa è chiaramente una fake news i giganti che hanno costruito le piramidi vedete com'è vedete perché io mi incazzo perché poi per non far prendere sul serio tutte queste cose che abbiamo visto che erano chiaramente c'era qualcosa dietro perché non possono essere tutte coincidenze poi ti mettono le minchiate per invalidare tutto quanto guarda poi ti mettono le minchiate estrapolano dei filmati dove c'è semplicemente il rituale di guardare il leader che passa ti mettono le minchiate poi per invalidare tutto cose che non esistono semplicemente era una guardia del corpo ti fanno vedere semplicemente delle cose che sono dei fake questo è chiaramente un fake ragazzi è chiaramente un fake e chiaramente non ci vuole un genio questa non sapere vedi stringe la mano al sacerdote della chiesa di satana cazzate ragazzi ti fanno vedere delle cose che sono chiaramente delle cazzate i simpson ti fanno chiaramente vedere un fotomontaggio fatto con l'intelligenza artificiale e poi e poi però ti dicono guarda ho aggiornato le cose e non non so come levarle ah tanto non si vede una minchia perché c'è la barra nera però le minchiate le minchiate i simpson e poi ti fanno vedere le icone pop ma se tu fai musica per ragazzine vedi Obama che fa il segno delle corna George Bush che fa il segno delle corna il papa che fa il segno delle corna raga purtroppo non si può levare questa cosa posso fare così per farvelo vedere meglio vedi e non maschia che allora purtroppo ragazzi vedi e poi ti dicono ma come fanno a costruire le piramidi se tu con la gru non riesci a caricare un blocco con la gru e col camion fai fatica a caricare un blocco anche un blocco di marmo anche tagliato male questi hanno fatto le piramidi come fanno quindi ti mischiano no tesla è stato silenziato quindi ragazzi eh quindi ragazzi quello che voglio dirvi io è questo quando tu non puoi nascondere qualcosa devi dire una bugia per nasconderlo ma la bugia ha le gambe corte quindi quella bugia deve essere quasi uguale alla verità esempio Fada ha rubato la marmellata per mangiarsela perché era dieta ok e quindi siccome non voleva rispettare la dieta ha rubato la marmellata e se l'è mangiata di nascosto questa è la verità io devo dire una bugia per salvare il culo a Fada non posso dire eh non è vero Fada non ha rubato la marmellata non l'ha mangiata ha rispettato la dieta non posso dirlo perché è lampante sotto gli occhi di tutti allora cosa dirò sì è vero Fada Fada era dieta e non l'ha rispettata sì è vero Fada per non rispettare la dieta ha rubato la marmellata per mangiarsela sì è vero Fada ha preso la marmellata l'ha rubata si è nascosto per mangiarla ma non è vero che l'ha mangiata perché alla fine quella marmellata è caduta si è rotta e poi qualcuno l'ha pulito ed è sparita quella marmellata ma non l'ha mangiata Fada capito la bugia è quasi uguale alla verità tranne alla fine che ti cambia qualcosa in modo che poi tu non sai più capire qual è quella vera e quella no perché come dicono in tanti è impossibile tenere nascosto qualcosa qual è la cosa più facile da dire ai complottisti ah non ce lo dicono è impossibile tenere nascosto qualcosa ed è vero è impossibile escono trapelano le informazioni la gente parla ed è per questo che poi nascono i vari Adam Kedmon che ti dicono guarda ci avvelenano perché solo per il business inquinano con l'amianto e con le antenne di radio vaticano sentite questa striscia notizia le iene eccetera 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 tanti anni fa fecero dei video delle inchieste sulle antenne di radio vaticano perché radio vaticano prendeva ovunque in italia prendeva anche in galleria a momenti e quelli che abitavano vicino in prossimità delle antenne radio di radio vaticano veniva tutti la leucemia hanno fatto delle analisi e hanno visto che le onde radio delle antenne di radio vaticano erano oltre i limiti consentiti dalla legge e quindi diventavano un problema a livello di tumori di leucemie ok quindi facevano male le onde radio ed era una cosa che è stato uno scandalo per tanto tempo io ero piccolino ok era radio maria scusate radio maria ok però se tu dici che il 5G fa male beh sei un complottista coglione ah il 5G coglione è arrivato un complottista coglione il 5G coglione coglione eh si ti mettono il microchip e ti controllano coglione io vi dico che se domani Elon Musk ti dice raga vi mettono il microchip così domani se andate in ospedale vedono subito la tua cartella clinica potete pagare non vi serve più il cellulare non vi serve più il computer non vi serve più niente se lo mette Cristiano Ronaldo e poi tutti ve lo mettete coglione tu sei complottista il 5G non fa un cazzo siamo d'accordo che internet è un bene primario al giorno d'oggi assolutamente sì serve a lavorare a tenersi in contatto con il mondo assolutamente sì siamo d'accordo che dovrebbero fare una cazzo di fibra che arrivi e che non si fermi al passaggio livello e che ti arrivi a casa tranquillamente sì non è possibile che se io dico guarda che il 5G non è tanto bello averlo sopra la testa tu mi dai del complottista e mi ridi in faccia perché porca puttana Radio Maria ti faceva venire la leucemia il senso critico è importante ragazzi perché per non passare da complottista da terra piattista allora deve essere tutto minchiate no no come fate cherry picking su quello che volete voi allora c'è da farlo anche però nell'altro senso ossia sapere capire quali sono le minchiate inutili e quali sono le cose da tenere d'occhio ora tu mi puoi dire ma Barlo ma a me che cazzo me ne frega che le drag queen hanno aperto le olimpiadi come dici tu ormai le olimpiadi sono diventate la versione di Sanremo dello sport c'è sempre stata una cerimonia d'apertura delle olimpiadi ci sta a parte che prima le cerimonie di apertura delle olimpiadi erano erano fatte a tema sportivo ma vabbè detto ciò drag queen perché l'inclusività abbiamo voluto mandare un messaggio di inclusività eccetera eccetera vi dico una cosa vi dico la mia secondo me era un po' non c'entrava tanto uno spettacolo di drag queen centrato sulla blasfemia della religione cattolica perché quando a Charlie Hebdo in Francia hanno provato a fare satira sull'islam gli hanno fatto una strage se avessero fatto tutti i partecipanti delle olimpiadi che fossero omosessuali o lesbiche avessero fatto una cerimonia loro portando la fiaccola quello che è avrei detto beh bella cosa dai visto anche l'ambiente tossico che c'è nel mondo dello sport sarebbe stato bello così mi è sembrato un po' una roba un po' fuori contesto a me non me ne frega un cazzo e io gli spettacoli delle drag queen mi piacciono alle karma b ritengo che facciano un ottimo show suonano compongono ballano cantano fanno burlesche sono proprio fighe o fighi che dir si voglia detto ciò mi fa strano collegando tutti i punti e puff daddy gli scandali di puff daddy kenny west questa roba del drag queen e poi vi faccio notare un'altra cosa secondo me il neural link di elon musk ce lo metteranno lo stesso in testa volente o non lente la prova sta di fatto nell'ultima pandemia ci dicevano che non era obbligatorio fare il vaccino ma se non lo fai poi non puoi andare là non puoi lavorare non si poteva fare niente e poi si è scoperto che erano tutte misure non non in linea con la costituzione erano anticostituzionali perché tu puoi perdere un diritto civile se commetti un crimine se il vaccino non era obbligatorio tu non commettevi nessun crimine e quindi era incostituzionale le cose che hanno fatto e questo lo posso dire tranquillamente detto ciò vi faccio vi faccio solo un una piccola parentesi sul mondo LGBT noi al Kate Boys siamo i primi sostenitori delle giapponesine col caccio lo sapete viva l'amore viva l'amore libero e viva l'amore e viva le persone che si amano ma se voi come me amate oltre al complotto anche studiare un po' le religioni eccetera nella Bibbia c'è scritto che quando c'era qualcuno indemoniato posseduto dai demoni lui non parlava più al singolare ma parlava al plurale in inglese tradotto noi siamo dei dem noi siamo legioni e il dei dem è diventato è diventato un po' il lo status symbol del movimento LGBT più QRSYZ e usare anche lì usare una cioè infiltrare subdolamente una una deriva una deviazione satanico massone in un movimento che nasce per la parità di diritti e la non discriminazione cercando di depersonalizzare i ragazzi che magari prendono parte al movimento per una causa giusta ma poi vengono traviati in quella frangente dicendo non sei più tu non sei più uomo non sei più donna non sei gay o lesbica sei fluido quindi non hai una sessualità non hai neanche un io perché sei dei dem quindi non hai una sessualità perché sei fluido ombrello non hai un io tuo perché sei dei dem capito molti adesso si identificano con animali questa cosa qua non è per pillarvi per il culo ragazzi ma da complottista io posso ricollegarla con la roba lì come questa branca filosatanica sia infilata nel mainstream nel pop ora che anche le aziende come Netflix Disney le olimpiadi sono molto attente al movimento LGBTQ è plausibile secondo questa teoria che queste mentalità si sia infilata anche in quello e questa cosa e questa cosa qua ragazzi lo so che è veramente assurda sentirle parlare ma io vi sto semplicemente spiegando com'è questa teoria e il la cosa brutta la cosa brutta è che questa teoria sulla carta fila funziona perché non vuol dire che esiste il diavolo che se fai una messa nera evochi satana che se tu sei convinto che accendendo le candele nere sacrificando i bambini allora tu poi diventi immortale proprio è questo il problema il problema non è se esiste o meno il problema è siamo tutti ormai persuasi che c'è una classe d'elite dominante si o no no allora vuol dire che tutto è casuale oppure si uniamo i puntini e vediamo che Paolo Rumor chi era Paolo Rumor era un un personaggio del dopoguerra molto vicino anche alla famiglia di Mussolini che se leggete il suo diario lo comprate diceva io lo so che sembra assurdo era il dopoguerra quindi non era il 2000 non era neanche il 1980 io lo so che sembra strano dirlo ma quando hanno dovuto ricostruire l'Europa dopo la guerra quelli che hanno deciso a tavolino come dovevano andare le cose erano le solite dieci famiglie che a detta loro sono le solite dieci dodici famiglie regnanti che per linea di sangue derivano già da fino ai faraoni dicevano loro e lui quando lo scriveva nel suo diario diceva io lo so che sembra assurda questa cosa ma è così perché io ero al tavolo con loro ora o questo qua si è inventato il complottismo 80 anni prima che esistesse ma poi scusatemi ma anche dicendo no ma non è vero non sono collegate tra loro le cose ma come mai Bill Gates che fa i computer è anche direttamente correlato con le big pharma che che fanno i vaccini cosa c'entra Elon Musk cosa c'entra Elon Musk con il Neuralink con i microchip e con il il fatto che negli anni 80 dicevano ci sarà una pandemia e subito dopo ci microchipperanno tutti cosa c'entrano i massoni col satanismo che dici i massoni è una loggia segreta intanto perché sei segreta seconda cosa perché tutti i personaggi più importanti sono massoni perché hanno dei rituali filo satanici a metà tra il satanismo e il cattolicesimo come rituale sono tutte domande che dici vabbè sono teorie del complotto però porca puttana fila tutto fila tutto ragazzi comunque le lobby in america è quasi potente quanto quella delle armi eh esatto allora io farò quest live del complotto con donna le manno perché perché se parlo solo io io poi mi fomento da solo e magari dico cose che non posso dimostrare farò una live con un contraddittorio il contraddittorio sarà donna le manno ok quindi se non conoscete andate a a seguire il suo il suo canale perché è veramente lui è il contrario di me lui va si informa fa delle ricerche e sempre con grande umorismo e e e molta tecnica va a parlare di tutte queste cose però lui ne parla dal lato scientifico io ti parlo invece con l'anima quello che sento quello che vedo è quello che mi sembra ok quindi farò un contraddittorio proprio con lui eh andatevi a vedere la puntata su youtube di del confessionale di donna le manno dove parla di padre pio c'è da morire da ridere ok tanto per capirne una e ripeto secondo me un elite di poche teste poche famiglie che ha le mani in pasto ovunque e che dirige a livello economico le sorti dell'occidente c'è perché negarlo devi poterlo negare è più facile dimostrare che c'è che negarlo e allora io dico se per avere il controllo sui suoi adepti non può solo pagarli perché sapete i mercenari se trovano uno che li paga di più o che li minaccia di morte ti tradiscono se invece sono soggiogati a livello psicologico con magari dei rituali che prevedono sesso che il sesso ti prende molto a livello emotivo sesso droga occultismo sacrificio umano e cannibalismo ha senso sapete perché ha senso? perché sarebbe un ottimo modo del controllo mentale e raga e non dite che queste cose sono impossibili perché nella seconda guerra mondiale i nazisti hanno fatto esattamente queste cose quindi sono cose che si facevano già nell'antica Grecia le hanno rifatte nel 1940 quindi sono tranquillamente riproponibili poi ragazzi io non ho problemi se mi danno del complottista io l'ho sempre dichiarato che sono un complottista preferisco essere complottista e poi venire smentito che credere a tutto quello che dice Italia 1 che credere a tutto quello che dicono i giornali e pensare che il governo non ci abbia mai mentito grazie questa era la mia live su il complotto ma ripeto era solo un'anticipazione sulla live seria con un contraddittorio serio perché ci tengo anche ad avere un contraddittorio perché è giusto su questo argomento va bene poi eravamo in clima di 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 olimpiadi e volevo dire la mia ok detto ciò detto ciò bella per le drag queen vi ricordo che però è uno spettacolo a tema sessuale per adulti e non capisco il perché metterle ovunque perché mi sembra anche abbastanza di cattivo gusto sbattere un prodotto sessuale in faccia a chi guarda le olimpiadi che magari ci sono anche dei bambini o gente poverina che ha dei tabù sessuali insomma quella però è un parere mio che vale come il 2 di pic ragazzi ci vediamo alla prossima paura a chi guarda